Ha ammesso di essere stato insistente nel cercare la ex moglie perché voleva tornare con lei e di aver agito in preda a un forte attacco di gelosia quando l'ha inseguita in auto per le strade della città, mentre la donna si trovava insieme al nuovo compagno. Così in sintesi ha risposto nel corso dell'interrogatorio davanti al Jeep il Nisseno di 35 anni arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi per maltrattamenti e stalking nei confronti della ex moglie. L'indagato ha però giunto di non essere mai stato violento nei confronti della ex. La vicenda era venuta a galla lo scorso 14 agosto dopo che l'uomo aveva inseguito in auto e costretto a fermarsi la ex moglie che viaggiava su un'altra vettura insieme al nuovo compagno. Dopo quell'episodio la donna aveva presentato denunce ai carabinieri raccontando anche i maltrattamenti subiti dall'ex nel corso della loro relazione, durata dal 2009 fino al marzo di quest'anno. La scorsa primavera, dopo la fine della loro tormentata storia, l'indagato aveva iniziato a perseguitare, sempre secondo l'accusa, sia lei che il nuovo compagno con una serie di minacce. L'avvocato difensore Massimiliano Bellini ha chiesto la revoca della custodia cautelare in carcere. La Jeep Valentina Balbo deciderà nei prossimi giorni.